Il perdono, la speranza e la forza sono alcune delle virtù praticate dai cristiani perseguitati nel mondo. Quando si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà, lungi dal compatirli, il progetto Stand Together invita invece tutti ad imparare da loro. Antonio Olivier, CEO di Rome Reports, ha presentato gli sviluppi di questa iniziativa al Meeting di Rimini, sottolineando il principale obiettivo di Stand Together, far conoscere e divulgare storie che possano essere fonte di ispirazione per tanti. Parecchi volte ci domandiamo che cosa possiamo fare per i cristiani perseguitati, però penso che questa non è la domanda giusta. Per noi la domanda giusta è che cosa possiamo imparare di loro. Quando uno vede il loro coraggio, la loro fede, il perdono, il rapporto con la gente, con i musulmani. Penso che sono molte cose che noi dobbiamo imparare di loro. Attraverso brevi video della durata di meno di tre minuti si raccontano storie straordinarie di chi sperimenta la sofferenza ma non sceglie mai di reagire con violenza. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con volontari ed enti che lavorano con le vittime di persecuzione. Lo scopo fondamentale in termini di contenuto è far conoscere la storia, la realtà, l'esperienza, la vita dei cristiani in questi paesi. Far conoscere la positività della loro presenza. Capire noi cosa ci stanno dicendo. Essere aiutati noi da loro. Televisioni di tutto il mondo trasmettono queste storie che sono anche pubblicate sul sito www.allstandtogether.com per poi essere condivise tramite account Twitter e Facebook di Stand Together. Tutti i video sono disponibili in inglese, italiano e spagnolo e molto presto anche in russo e francese.